Il passo seguente che devi tenere in considerazione se stai avviando un nuovo business riguarda l'offerta perché gli imprenditori partono da un presupposto che siccome esistono i clienti arriveranno da soli abbiamo visto nei giorni scorsi come questo non sia vero ma come tu invece devi muoverti in maniera attiva per trovarli una volta fatto questo devi anche creare un'offerta, un qualcosa che li attiri e li porti a te perché ci sono alcuni clienti che hanno un problema così sentito e vedono in te la soluzione perfetta alla loro situazione che si lanceranno veramente senza paracadute ce ne sono altri invece che hanno bisogno di essere stimolati per essere attratti nel momento che parti da zero tu non hai una base di clienti quindi sei costretto ad attuare una strategia tendenzialmente aggressiva per portare le persone da te potresti avere un ristorante per ciliaci ad esempio specializzato nella cucina senza glutine perfetto ci saranno persone che saranno immediatamente attratte da te perché hanno un problema e vedono in te la soluzione ce ne saranno altre che magari hanno lo stesso problema ma che non sono così tanto stimolate a venire a provarti perché non ti conoscono è un'esperienza nuova e le persone tendenzialmente quando devono provare qualcosa di nuovo sono sempre un po' restie quindi quello che puoi fare è creare un'offerta che serva ad abbattere queste barriere un'offerta irresistibile ad esempio vuoi venire a provare una cucina senza glutine prenota il tuo tavolo online e venite in due e paga uno ad esempio, un esempio si è veramente simbolico qual è il punto? Che un'offerta del genere può spingere le persone curiose a venire da te più sei aggressivo nella tua offerta più persone ti arriverai immaginati dire nuova inaugurazione per tutto il mese viene da me e mangi gratis quanta gente arriverebbero? Infinita perché sarebbe un'offerta veramente aggressiva al punto tale che arriverebbero anche persone non interessate che verrebbero solo per mangiare gratis e non è questo il tuo obiettivo quindi quello che devi fare è creare un'offerta e sbatterla letteralmente in faccia alle persone che sono i tuoi potenziali clienti per incentivarle a fare quel passo in più che non stanno facendo questo è fondamentale le persone gli imprenditori lo sottovalutano ma in una fase iniziale voi avete bisogno di costruire la vostra base di clienti perché sono proprio loro che vi permetteranno di far crescere l'attività quindi è sempre importante tenere in considerazione quella che molti chiamano l'offerta di benvenuto proprio perché serve a prendere degli sconosciuti a dargli il benvenuto nella vostra attività e portarli da voi il vostro obiettivo come abbiamo visto nella fase di acquisizione clienti è quella di portare le persone di catturarle e un'offerta di benvenuto o comunque un'offerta aggressiva serve proprio a questo va a rinforzare la fase di acquisizione quindi oggi chiediti che tipo di offerta potresti creare per prendere delle persone che hanno capito quello che fai hanno visto magari la tua comunicazione e la tua pubblicità sanno che esiste ma ancora non hanno fatto quel passettino in più perché non è mai capitato l'occasione pensaci e trovani una che ti soddisfi in quanto diciamo vantaggio percepito per i clienti quindi deve essere davvero vantaggiosa per loro perché il tuo obiettivo in questa fase non è guadagnare dalla singola vendita dalla prima vendita ma è creare una base di clienti che verrà da te continuamente nel tempo quindi il livello di aggressività diciamo quindi di quanto l'offerta vuole essere irresistibile o meno in ogni caso il tuo obiettivo è trasformare le persone titubanti in persone che ti danno finalmente questa agognata a possibilità con questo è tutto io sono Massimo Martinini e ci vediamo domani ciao aggiungo molti imprenditori hanno paura di fare offerte perché la vedano come uno svendere il proprio prodotto allora quello che noi dobbiamo tenere a mente è che noi non dobbiamo necessariamente svendere il prodotto tempo fa facevo l'esempio del ristorante come ti dicevo immagina questa situazione viene a provare il nostro ristorante come funziona apronti il tavolo ti veniamo a prendere in limusina a casa ti portiamo al ristorante e poi ti riportiamo indietro ora super aggressiva come promozione tu dici wow gli vengono esperienza una cosa incredibile perfetto ma stai svalutando quello che offre stai svalutando il tuo ristorante no anzi con un'offerta del genere probabilmente alzi ancora di più il livello precipito quindi un'offerta fatta bene non svaluterà il tuo prodotto con questo è tutto davvero e ti saluto ciao